A causa del maltempo, la manifestazione Venezia in Salute, dedicata al benessere e alla prevenzione, in programma a Mestre, domenica 18 settembre, sarà posticipata al 25. L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, è organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con l'Ulss 12 e l'Ordine dei Medici. Una giornata intera dedicata alla prevenzione e all'informazione nell'ambito sociale e sanitario, stili di vita sani, prevenzione ed educazione ad avere certi tipi di approcci con alimenti, con lo sport e con il modo di vivere. Saranno 20 gazebo con una serie di realtà del volontariato e del mondo sanitario che aiuteranno i cittadini a informarsi. La sanità esce dalle strutture e si mette in mezzo alla piazza. Venezia in Salute andrà in scena in piazzetta Coinda alle 9.30 alle 18 e coinvolgerà la cittadinanza con proiezioni di video e animazioni proposte da associazioni di volontariato e enti e aziende sanitarie, che porteranno in piazza le proprie eccellenze per farsi conoscere e educare i cittadini ai corretti stili di vita.